Ciao amici, oggi siamo nella casa delle vacanze, ragazzi, siamo un sacco felici perché finalmente abbiamo finito il lavoro, cioè abbiamo le ferie estive e possiamo goderci le nostre bellissime vacanze oggi è caduto anche un cocco nel mentre, bene, comunque siamo un sacco felici perché ci siamo affittati una casetta in riva al mare, come potete ben vedere, c'è una vista stupenda, tra l'altro anche abbastanza economica perché non l'abbiamo pagata molto alla fine sono solo poche stanze, non sono tantissime, sono quattro mi pare, però è davvero fantastica ed è in stile molto sirenetta, quindi alle bambine sicuramente piacerà tantissimo adesso andiamola a vedere andiamo ragazzi, venite con noi allora, questo è l'ingresso ed è già da qui si può capire in che stile è arredata ed è fantastica, cioè guardate che sono belle queste poltroncine, oh mio dio, le adoro ed è super rosa, tra l'altro poi si entra e troviamo nel salottino barra cucina, me l'avevo detto che comunque era piccolina, non era chissà cosa, ed è bellissima poi qui la camera da letto, i letti delle bambine e il nostro letto ed è fantastica, abbiamo anche il terrazzino è super super bella veramente ragazzi, ci sono innamorata e poi qui il bagno, dove abbiamo per giunta l'armadio qui, perché nella stanza non c'è spazio, quindi l'hanno messo qui ma ci può stare quindi ragazzi, a noi piace un sacco e qui passeremo le nostre vacanze estive adesso però dobbiamo prendere tutti i vestiti, tutti i nostri vestiti, tutte le nostre cose nell'altra casa quindi adesso portiamo tutti i vestiti qui e tutte le cose per il bagno eccetera eccetera e poi ci vediamo ok ragazzi, abbiamo portato leggermente un po' di roba quindi adesso piano piano la sistemiamo tutta a partire qui dalle cose per il bagno per chi comunque si stesse chiedendo il cagnolino il cagnolino a chi l'avete lasciato? ragazzi, l'abbiamo lasciato a una dog sitter e prendo il pretesto, tra virgolette, per dire anche che sfortunatamente è arrivata la stagione dove moltissime persone abbandonano i propri animaletti questo perché? perché devono andare in vacanza e giustamente andando in vacanza il cane magari non se lo possono portare e per non lasciarla a casa da solo lo abbandonano ragazzi, non fate mai queste cose perché esistono i dog sitter ed è veramente una cosa da insensibili abbandonare gli animali quindi per favore ragazzi abbiate un pochettino di, come si dice, rispetto per loro perché non dovete pensare solo a voi stessi e andarvi a fare la vacanzina belli, felici e spensierati e trattateli bene detto questo ragazzi noi abbiamo sistemato il minimo indispensabile che ci siamo portati tra la quale costumi, vestiti delle bambine i vestiti miei, i vestiti del mio ragazzo diciamo abbiamo portato il minimo indispensabile perché comunque naturalmente poi faremo shopping quindi non c'è da preoccuparsi e nulla adesso andiamo a sistemare un po' la cucina perché è praticamente spoglia ok ragazzi, ora ho lasciato il kit con tutte le cose per mangiare infatti potete vedere tutto molto in tema e le abbiamo sistemate per quanto riguarda la spesa la andremo a fare poi successivamente off camera prima però dato che abbiamo questo bellissimo mare qui praticamente attaccato a casa vorremmo farci un bel bagno perché si muore dal caldo abbiamo praticamente fatto mezzo trasloco quindi ci sembra anche giusto farci un bel bagnetto no mamma ma io sono anch'io e allora poi vi metto il il pannolino e vi lascio a dormire naturalmente chiuderò la finestra perché mi sembra ovvio che non vi lascio da sole con la finestra aperta assolutamente ecco qua detto questo ragazzi allora le metto qui a dormire perfetto ragazzi noi adesso ci mettiamo il costume e andiamo a farci un bel bagno stiamo parlando sottovoce perché siamo praticamente attaccati alla stanza delle bambine quindi non vogliamo svegliarle ok ragazzi eccoci qui c'è una vista stupenda come già ho detto l'acqua è leggermente freddina proprio leggermente però a me non mi interessa io mi tuffo addio quante volte ti avrò detto che in acqua ci devi entrare piano piano perché se l'acqua è troppo fredda ti puoi sentire male non succede niente tranquilla vieni va bene guardate che carina una stella marina ma poi è viola è stupenda amore anche qui sotto ce n'è un'altra wow ragazzi guardate quante cristallina l'acqua si vede addirittura il fondale è stupenda perfetto ragazzi adesso siamo stati diciamo a mollo per un po' di tempo e adesso io mi voglio rilassare un po' qui a prendere il sole in effetti è stupendo e anche io voglio stare qui vado a prendere i telefoni così almeno ci rilassiamo un po' tieni amore grazie poi ragazzi questo è qui essendo dove sono seduta io essendo che è ancora più alta si vede proprio letteralmente tutto il panorama e infatti adesso voglio fare una storia perché la voglio postare su instagram perfetto ragazzi guardate che bella questa foto è stupenda adesso la posto su instagram e poi ci incominciamo a preparare perché dobbiamo andare a mangiare in un ristorante di pesce perfetto ragazzi l'ho postata e adesso ci andiamo a preparare perché comunque ormai si è fatto abbastanza tardi e dobbiamo andare a pranzare ok io fortunatamente non mi sono bagnato i capelli quindi non mi devo fare la doccia anche con i capelli devo solamente darmi una sciacquata al corpo quindi ragazzi ci rivediamo quando saremo vestiti super carini perfetto ragazzi noi ci siamo tutti lavati e vestiti e ci siamo vestiti così allora io ho messo questo vestitino super carino con questa borsetta che è davvero troppo carina il mio ragazzo si è messo questa giacchetta non so come ma lui la tollera perché comunque è molto leggera ragazzi non è un giubbotto una magliettina di cotone leggera dei jeans e le jordan rosse e nere e le bambine si sono vestite con queste tutine super carine io abbinata a questo vestitino ci voglio abbinare anche questo fermaglio che secondo me stanno divinamente insieme adesso ragazzi possiamo andare a pranzare salve noi vorremmo ordinare qualcosa da mangiare si certo cosa le portiamo per me una piadina per me invece un po' di sushi ok va bene potete sedervi nel tavolo per le bambine invece porto qualcosa no no le bambine poi le faccio mangiare a casa ok va bene i ragazzi ho sempre preferito far mangiare le mie figlie a casa non farle mangiare nei ristoranti nelle cose perché non lo so non secondo me non è un cibo molto salutare che può fare bene alle bambine ecco signorina mi scusi ma noi abbiamo finito le piadine e allora un piatto di pasta con i gamberetti ok le porto subito come bevanda cosa le portiamo una limonata andrebbe bene ok tenete il vostro ordine viene 15,50 oh è molto economico sì essendo che comunque non siamo un ristorante molto grande è abbastanza economico meglio ok ragazzi questo è quello che abbiamo radinato pasta con gamberetti e il mio marito il sushi è un'animonata dato la vostra gentilezza e dato che le bambine non hanno mangiato niente se lei vuole io le vorrei regalare questi due frappè alla fragola con un po' di panna di sopra così che le bambine possono anche loro mangiare qualcosa oh sì sì questo va bene ok grazie mille oh grazie mille a lei arrivederci sicuramente ci rivedremo arrivederci andiamo perfetto ragazzi noi siamo tornate siamo tornati a casa e adesso vorrei lavare cioè prima faccio mangiare le bambine e poi le lavo ok ragazzi oggi ho fatto questo passato di verdure con questa bevanda qua quindi oggi ragazzi di solito gli faccio la pappetta con la carne e tutto quanto oggi toccava il passato di verdure quindi passato di verdure sì come avete ben notato io alle mie bambine faccio fare una dieta ben specifica cioè ovvero gli faccio sempre pappette cose abbastanza salutari è raro che le faccio mangiare così comunque mangiamo anche io e mio marito quindi tipo pasta carne in sé perché secondo me ancora sono leggermente piccoline fra qualche mesetto o annetto probabilmente già incomincerò a farle mangiare la carne la pasta poco condita ed eccetera eccetera comunque loro già hanno finito quindi adesso lavo queste cosine e poi ci sistemiamo perfetto ragazzi ho lavato tutto e adesso sistemo le bambine gli metto il pigiamino e gli lavo le mani le faccio ok ragazzi le bambine in questo momento sono in terrazza che stanno giocando io invece mi cambio gli metto questo qui per stare un po' più comoda e io invece mi metto questo qua perché comunque ancora la giornata è lunga poi magari più tardi stiamo a fare una passeggiata molto easy quindi ancora è meglio rimanere vestiti nel dubbio adesso io mi lavo i denti perché ho mangiato la pasta le cose quindi mi lavo i denti per benino così perfetto e poi mi sciacco la bocca ovviamente adesso me li lavo anch'io perché mi sembra ovvio ok perfetto se mi sciacco e ho finito ok ragazzi adesso noi andiamo dalle bambine nel terazzo perfetto ragazzi il sole è tramontato e adesso noi ci andiamo a fare una passeggiata in rima al mare ragazzi guardate quanto è bello io potrei svenire per la troppa bellezza e tra l'altro vedete quella isoletta lì in fondo ecco quella isoletta è l'isoletta dove noi viviamo dove c'è casa nostra la casa che vedete sempre dove noi passiamo tutta la nostra giornata quando non siamo in vacanza oddio ma guardate quel corallo quello lì ma brilla ah ma brillava perché sotto c'era qualcosa c'è una conchiglia amo ma vabbè lasciamola lì non non provare a tuffare toccare non fare niente tranquillo ci andrò domani mattina non adesso e te pareva ragazzi siete curiosi di sapere cosa c'è lì sotto cos'è quella conchiglia lo scopriremo nel prossimo video che c'è lì che c'è lì Grazie a tutti.